Com'è stato dare la voce a Po? E' stato bellissimo perché non mi aspettavo questo Kung Fu Panda 4, pensavo che fosse finita la mia esperienza con Po e invece è arrivato inaspettatamente come un amico e sono molto contento perché sono molto affezionato a questo personaggio. Po è cambiato rispetto agli altri tre film perché è cresciuto, i cartoni animati non invecchiano mai però crescono e lui è diventato da un ragazzo quasi bambino che aveva il sogno di diventare guerriero dragone, ha la responsabilità di essere una guida, non solo una guida nel Kung Fu ma anche una guida spirituale, quasi saggia, ha superato la sua linea d'ombra. In cosa assomiglio a Po? Tantissimo, tant'è che il primo Kung Fu Panda mi ricordo che per me è stato il film più autobiografico della mia vita, quello che racconta la mia vita perché era figlio di un ristoratore che sognava di diventare un supereroe, un guerriero dragone ed era un po' la mia vita, io che dalla provincia sognavo di diventare, di realizzare i miei sogni quindi siamo simili anche fisicamente direi. Perché vedere questo film? Intanto va visto al cinema perché ovviamente a parte i colori ma la grandezza, la storia, le musiche, al cinema tutto è più bello. Qual è anche la magia del cinema? È che è talmente grande lo schermo che tu torni il bambino che guardava la televisione da bambino, cioè questa proporzione ti riporta bambino ed è un film che ha dei valori e dei messaggi bellissimi anche molto profondi ma con la leggerezza, il divertimento e l'allegria tipica di Po.